Identità e apertura o stanno insieme o si strutturano l'una con l'altra e alla fine generano riguardo. C'è una grande domanda, bisogna sapere ascoltare comunità, comunità, bisogna avere la stessa unità in un certo punto di risposta ai quali non esistono più prontuali e guardano bene tutte le risposte. Io personalmente lo dico molto sinceramente, non possiedo valigie delle quali mi siano tutte le risposte a tutte le domande. Anche perché ogni giorno c'è una domanda inversa, non farei tempo a riempire la valigie. E perché non ne fanno più di valigie così? Vorrei dire per fortuna non ne fanno. Perché quelle valigie, quelle valigie nelle quali c'erano tutte le risposte, poi hanno prodotto altre valigie che sono quelle che si vedono dietro alle vetrine di Auschwitz quando si va in visita nei campi. Sono le valigie delle esseri umani, i nomi stanno scrittimidi e uccisi da ideologica. Non ci sono più risposte che possano essere date l'una coerente con l'altra strumento del passato. Vediamo la questione della sicurezza. La sicurezza di un essere umano è un tema comunque collocabile nel politico di vita. Non lo so.